Ieri pomeriggio, all'altezza della rotatoria dell'Aspio, si è sviluppato un incendio sulla parte posteriore di un autobus dell'azienda Conerobus, in servizio sulla linea N. L'autista, accortosi di quel che stava accadendo, ha subito chiamato i vigili del fuoco ed avvisato la centrale operativa della società di trasporto pubblico, che ha inviato sul posto una squadra a supporto per prestare assistenza. Nel frattempo il conducente ha messo in pratica le procedure aziendali di emergenza, accostando il mezzo per far scendere tutti i passeggeri a bordo e metterli quindi in salvo. Dopo essersi assicurato che l'autobus fosse vuoto, è intervenuto per cercare di spegnere il rogo con gli estintori di bordo, ma le fiamme hanno preso il sopravvento e il mezzo è andato completamente distrutto. Le cause che hanno portato allo scoppio dell'incendio, dichiara il presidente di Conerobus, Muzio Papaveri, sono in corso di accertamento. Tengo a ringraziare l'autista che, con tempismo e grande lucidità, è riuscito a garantire l'incolumità dei passeggeri. Tutto il nostro personale di guida è formato per affrontare emergenze come questa. Un plauso anche ai vigili del fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti per prestare soccorso.